Liberi ma gravemente indiziati. Questa è la condizione descritta dal GIP Antonio Sicuranza in riferimento alle posizioni dell'ex sindaco di Foggia, Franco Landella, e degli altri indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha travolto Palazzo di Città. Nelle scorse ore è stata infatti disposta la sostituzione dei domiciliari con l'interdittiva ed immediata liberazione per l'ex consigliere comunale Antonio Capotosto e per l'ex sindaco Franco Landella. La revoca della misura cautelare dei domiciliari e immediata liberazione per l'ex consigliere comunale Dario Iacovangelo, rigettata invece la richiesta di revoca delle misure cautelari in corso per Paolo Tonti che quindi resta agli arresti domiciliari e per la moglie di Landella, Daniela Di Donna, interdetta dai pubblici uffici. Deve darsi anzitutto atto, si legge nel disposto del GIP, come le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso dei rispettivi interrogatori di garanzia non abbiano minimamente scalfito il quadro dei gravi indizi di colpevolezza emergente nei loro confronti, dovendosi anzi lo stesso ritenersi ancora più corroborato dalle dichiarazioni rilasciate il 28 maggio da Bruno Longo. In riferimento a ciascuna delle figure coinvolte, il GIP motiva così le proprie decisioni. Di Franco Landella si è posta e risalto la proclività delinquere da colletto bianco, pronto a mercificare il suo potere derivanteli dall'essere titolare di pubblici uffici. Il venir meno degli organi elettivi dell'ente comunale non ha alcun riverbero per l'imprenditore Paolo Tonti che nella sua qualità di corruttore conserva intatta la sua capacità di interferire con le scelte degli apparati comunali. Per l'indagato Capotosso si conferma la figura di un personaggio provvisto di certa proclività delinquere ed infine per Daniela Di Donna si evidenzia che le intranetà nell'apparato comunale ne mantiene intatte le capacità di incidere sulle scelte dell'ente. Intanto si potenzia sempre più la squadra di lavoro a Palazzo di Città e il neoprefetto di Foggia Carmine Esposito ha infatti nominato nelle scorse ore tre subcommissari prefettizi per supportare l'attività del commissario Maria Elisa Magno, nominato il 25 maggio scorso. Si tratta del vice prefetto della Battarachele Grandolfo e dei dirigenti Sebastiano Giangrande in servizio presso la prefettura di Bari e Francesco Fasano in servizio presso la prefettura di Foggia. Lei accennava proprio alla nomina dei tre subcommissari perché una realtà così complessa e così importante come quella di Foggia con 150.000 abitanti merita un'attenzione per una gestione attenta, controllata e vicina naturalmente alle esigenze della cittadinanza.